Benvenuti amici di Medie24 e buonasera a tutti voi. Sono tornate prepotentemente in campo le ideologie. Pensavamo che esse fossero morte e sepolte con la caduta del muro di Berlino, quando il mondo, diviso in due blocchi, si sorreggeva sul pensiero ideologico. L'ideologia non è altro che un modello di pensiero che dà per assoluta una verità. Un tempo essere comunisti o essere democristiani voleva dire appartenere a due chiese la cui dottrina predicava una sola verità, che da questa parte stava la ragione, tutta la ragione e dall'altra parte tutto il male possibile. Cadute le ideologie abbiamo imboccato la strada della secolarizzazione, conta solo la realtà per quella che è, senza fronzoli o orpelli ideologici e conta solo la libertà, la libertà di fare tutto quello che si vuole. La pandemia ha riportato in auge le ideologie, questa volta incentrate sul complottismo e molti autorevoli intellettuali, come per esempio Cacciari, si sono accodati in questo buco nero dell'ideologia che ci vorrebbe tutti ormai prigionieri di un pensiero unico, di un mondo governato da ristretti potentati, che nel segreto delle loro stanze ci vogliono prigionieri e controllati in ogni nostro movimento. È stato interessante qualche sera fa sulla Sette l'intervento dello psicanalista Massimo Recalcati, che con estrema efficacia e chiarezza sottolineava come la pandemia abbia riportato al centro delle relazioni tra le persone il concetto di libertà. Quelli che scendono in piazza a protestare, dice Recalcati, hanno un'idea libertina della libertà, quello c'è di fare quel cavolo che si vuole, mentre la vera libertà è quando essa è vissuto in modo collettivo, perché una libertà senza solidarietà è solo puro egoismo e disprezzo dell'altro. Ed è stato anche interessante l'opinione di alcuni giovani che, ascoltando i ragionamenti del filosofo Cacciari, scuotevano la testa e affermavano invece la necessità e insieme la responsabilità di vaccinarsi. I giovani sulla vicenda della pandemia, come sul clima d'altra parte, si sono dimostrati molto spesso più adulti dei loro stessi genitori. I giovani guardano al sodo, loro vogliono vivere la libertà di trovarsi insieme, di andare a ballare, di divertirsi e anche di studiare, di crescere, di costruirsi un futuro. Non hanno tempo per correre dietro a certi ragionamenti, loro guardano alle cose concrete e se il vaccino li mette nelle condizioni di vivere serenamente la loro vita e di continuare a fare quello che a loro piace, non hanno alcun dubbio di farsi vaccinare. Una bella lezione per tutti, soprattutto per certi intellettuali da salotto e per la gente che gli corre dietro. E veniamo alle notizie di casa nostra. Propordenone al lavoro per l'edizione 2021 del premio Stella di Natale. Il premio, entrato ormai nella tradizione delle festività natalizie pordenonesi, è rivolto a persone, associazioni o istituzioni che si sono particolarmente distinte per atti di altruismo o di soccorso nei confronti di persone in difficoltà. Entro il prossimo 6 dicembre un'apposita commissione, composta da esponenti delle istituzioni, del volontariato e della Chiesa diocesana, valuterà i nominativi che poi saranno segnalati alla Propordenone. La consegna dei premi si svolgerà il 26 dicembre prossimo nel Duomo concatetrale della città. E quattro onorificenze di cavaliere al merito della Repubblica sono state consegnate in Prefettura Venezia ad altrettanti operatori sanitari dell'Azienda Sanitaria del Veneto Orientale. Si tratta di Luigi Nicolardi, medico in pensione, già direttore del Dipartimento di Prevenzione, degli infermieri Corrado Benetti e Martino Ferrazzo e di Amalia Fontanel, già responsabile della Centrale Operativa Territoriale, ora transitata all'Azienda Sanitaria numero 3, Serenissima. Soddisfazione da parte del Direttore Generale Filippi, che vede anche attraverso questi importanti riconoscimenti l'apprezzamento per il grado e la qualità del lavoro svolto nell'Azienda Sanitaria, reso possibile dalla testimonianza di operatori di così alto livello e di grande professionalità. E anche a Fiume Veneto vi è stata la consegna di una stella al merito della Repubblica al cittadino Maurizio Cassanna. Nella cornice del Quirinale, il 10 novembre scorso, il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha insegnato il cittadino fiumano dell'importante riconoscimento. Soddisfazione da parte dell'interessato quando è venuto a conoscenza che la sua azienda, presso la quale lavora da oltre 36 anni, lo ha proposto per l'importante onorificenza. Un punto di riferimento per tutti noi e soprattutto per i giovani è stata l'affermazione del titolare dell'industria e della sindaca Jessica Canton che non ha mancato di far sentire la voce dell'amministrazione comunale, orgogliosa del riconoscimento tributato a un suo concittadino. A San Donato di Piave riapre da oggi il centro diurno per anziani colora il tuo tempo. Per il momento il servizio funzionerà tre pomeriggi alla settimana nel rispetto delle disposizioni anti-covid-19. Il centro riapre dopo un impegnativo lavoro di preparazione per organizzare le attività in totale sicurezza per gli ospiti. Molte le associazioni e le istituzioni che hanno contribuito alla riapertura del centro, a cui la vice sindaca Silvia Lasfanti e il presidente della casa di riposo Giorgio Maschietto hanno rivolto un pensiero di ringraziamento e di gratitudine. Domenica scorsa Media24 ha trasmesso in diretta il convegno degli amici del cuore di San Donato di Piave. Vi facciamo allora ascoltare l'intervista al presidente dell'associazione Loriano Bruniera a cura di Luca Curtarelli. Ci troviamo qui al palazzo della loggia di Motivivenza con me Loriano Bruniera, presidente degli amici del cuore. Oggi un convegno, una tavola rotonda con tanti relatori per la giornata mondiale del cuore. Allora Loriano un bilancio di questa giornata? Un buon bilancio anche perché da tanto che volevo che si trovassero più sia una parte politica sia la parte più direttamente aziendale tipo quello che governano specialmente Loras. Ed è venuto fuori il bilancio sicuramente positivo perché i politici hanno capito che la nostra realtà qua ha bisogno di loro e di buoni manager. Quindi questo anche rinnovamento dell'Oras fa sì che ci sia questo connubio fra i due. Qualcosa è venuto fuori anche per noi. Io quando ho fatto la mia relazione ho detto che il Covid ci ha spezzato. Però come sempre noi veneti e il volontariato in genere si tira su. Le prospettive future di sicuro cambieranno. Forse cambieranno non più con i contatti fisici ma forse anche noi ci dovremmo adeguare ai mezzi moderni tipo telemedicina. Non faremo più forse i check up nelle piazze dove ci abbracciavamo, ci parlavamo e questo ci mancherà molto sarà più una cosa più un po' più sterile però i nostri cardiopatici non verranno mai abbandonati. Mai. E a partire da oggi e fino al 15 dicembre prossimo la circolazione veicolare di via Biella e via Cividina sarà modificata per consentire i necessari lavori di asfaltatura. Lo comunica il comune di Udine che precisa che nei tratti interessati dai lavori sarà istituito un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per ogni tipo di veicolo in entrambi i lati delle vie. Sarà contestualmente istituito il senso unico alternato per la circolazione degli automezzi regolato da apposita segnaletica. E con un breve ma intenso intervento il sindaco di Trieste di piazza ha aperto i lavori del primo consiglio comunale. Giunto alla sua quarta tornata amministrativa come primo cittadino di Trieste di piazza ha esordito in un consiglio collegato in videoconferenza a causa delle restrizioni per il covid che vede la città del golfo alle prese con una recrudescenza della pandemia. Pur con tali restrizioni di piazza ha difeso la funzione del consiglio comunale che pur con le difficoltà di svolgerlo da remoto resta il luogo del confronto democratico e del dibattito sui temi della città. Ha poi ringraziato gli assessori e i consiglieri comunali uscenti che dai banchi del consiglio comunale hanno contribuito con il loro lavoro al bene della città. Come abbiamo già riportato in precedenti edizioni si è svolto nei giorni scorsi il consiglio comunale di Porto Gruaro. Ospite dei nostri studi la consigliera Maria Teresa Rett intervistata da Aldo Curtarelli. Maria Teresa Rett consigliere comunale di minoranza nel comune di Porto Gruaro. Sono finiti i consigli due, gli ultimi due consigli comunali ma in modo particolare l'ultimo in cui si è parlato del DUP. Una partita poker, così l'ho definita. Ci può dare un suo commento su questo ultimo consiglio comunale? Sì, buonasera intanto, grazie. Intanto è un peccato che un consiglio comunale diventi una partita poker, non dovrebbe essere questo, dovrebbe essere altro, il fine e l'obiettivo dei lavori consigliari. A me hanno insegnato che la politica si fa con i numeri e quindi molte voci dalla maggioranza si sono levate a critica nei confronti del sindaco e della giunta e a critica nei confronti di questo documento unico di programmazione. Alla fine però il voto della maggioranza è stato quasi completamente compatto e quindi questo io credo che faccia perdere un po' di credibilità a chi leva delle voci e delle polemiche nei confronti di un singolo documento, nei confronti del sindaco per poi in realtà votare favorevolmente. Io onestamente non credo che se ci fosse stato un voto di estensione più numeroso o voti contrari più numerosi il sindaco sarebbe caduto o venuto meno rispetto alla sua carica. Però credo che i consiglieri che tanto hanno criticato il sindaco sarebbero stati più credibili e coerenti nel votare in modo conseguenziale i loro interventi. Questo vede, secondo me, oltre a far perdere credibilità a chi diventa protagonista di questi atti, può anche far sorgere il dubbio che in molti è sorto che appunto poi si tratti di un gioco di forza, di un lavorio sotterraneo per assicurarsi voti sufficienti in consiglio. Ecco, il mio timore da consigliera è che il sindaco e la giunta siano più impegnati ad assicurarsi numeri sufficienti in consiglio e a passare, ma appunto momenti delicati come questo, lavorando per assicurarsi una maggioranza che è evidentemente molto fragile, piuttosto che impegnare il tempo a lavorare per la città. Quindi io mi auguro, è quello che ho detto anche in consiglio, che chi ha votato a favore di questo documento, dove ci sono delle progettualità importanti, per esempio il ring, poi non possa criticare il ring. Questo è stato votato e è molto chiaro nel DUP qual è l'obiettivo di questa giunta. Chi ha votato a favore è d'accordo con questa progettualità, quindi poi basta polemiche e si agisca di conseguenza. Noi come centro sinistra e come opposizione ci siamo invece dichiarati da subito contro quest'opera, da subito contro molti altri progetti presenti in questo documento e abbiamo ovviamente votato di conseguenza. Noi abbiamo un'altra idea di città. Ecco, lasciamo così a parte ormai quest'ultimo consiglio comunale con tutte le conseguenze del caso. La politica purtroppo ci ha fatto conoscere molte di queste serate. Speriamo che poi invece questo consiglio comunale porti anche di buoni frutti. Però lei è una che in consiglio comunale, al di là di questa sua osservazione del consiglio comunale appena trascorso, fa sempre delle proposte e delle richieste per il bene dei cittadini. Ha qualcosa da chiedere che secondo lei l'amministrazione comunale potrebbe fare e che siano necessarie per la città? Guardi, sì, assolutamente. Dalle grandi cose alle piccole cose che impattano sulla vita quotidiana. Una di queste, tra virgolette, piccole cose, una richiesta che io mi permetto di fare a chi di dovere, vede oggi è lunedì. Ieri domenica molte famiglie portogruaresi e molti bambini portogruaresi sono stati costretti ad andare a San Donà per poter fare il tampone, perché il centro tamponi di Portogruaro alla domenica è chiuso. È chiaro che è un grande disagio per i cittadini portogruaresi, tanto più in questa fase dove mi pare di registrare una crescente preoccupazione in merito ai numeri e dove comunque l'attività di controllo, monitoraggio di tamponi che riguardano soprattutto i bambini e i ragazzini che frequentano le scuole si sta intensificando. Anche stamattina c'era una coda notevole con solo uno sportello aperto, quindi sicuramente la richiesta è quella di non costringere le famiglie portogruaresi, soprattutto quelle che hanno bambini o comunque persone fragili, a doversi spostare a San Donà la domenica perché Portogruaro non ha un centro dove poter fare i tamponi alla domenica durante il giorno. Quindi spero che si possa risolvere questa cosa e almeno momentaneamente riaprire il centro anche durante le giornate festive. Poi ovviamente ci sono anche i grandi temi, quelli che ho portato anche in Consiglio Comunale, per esempio qual è la posizione della maggioranza rispetto al casello autostradale, rispetto all'uscita di Portogruaro West, cosa vogliamo fare, chi vogliamo essere come città, quale ruolo vogliamo giocare. Io le mie proposte le porto sempre in sede consigliare. Speriamo che si riesca ad andare oltre le appartenenze e si riesca a lavorare insieme perché io sto sentendo molti annunci, molte dichiarazioni di centralità di Portogruaro che purtroppo non seguono i fatti. Anche in merito ai contributi comunitari e non comunitari, perché poi ce ne sono molti, anche qui nell'ultimo Consiglio sono state fatte delle dichiarazioni che meriterebbero un'attenzione in più e noi continuiamo a lavorare in questo senso. Una notizia che diamo volentieri perché quando si parla di lavoro per i giovani è sempre una buona notizia. Costa Crociere insieme al Centro per l'impiego di Trieste della Direzione Centrale del Lavoro e Formazione della Regione Friuli Venezia Giulia ricerca circa 60 nuove figure professionali da impiegare a bordo delle sue navi. Si tratta di 18 receptionist, di 25 animatori e di 18 tecnici, la cui assunzione avverrà attraverso un percorso specifico che prevede l'invio della candidatura, il reclutamento e corsi di formazione gratuita precedenti all'imbarco. L'invio delle candidature è aperto fino al 3 dicembre prossimo, quindi chi può essere interessato si è affretti a presentare la domanda. Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del campo di calcio Vesna Santa Croce a Trieste, una nuova ripavimentazione del campo da gioco con erba sintetica realizzato con tecnologie avanzate e materiali di ultima generazione che consentiranno tra l'altro bassi costi di manutenzione. Soddisfazione da parte degli amministratori comunali di Trieste con in testa il sindaco di piazza e i ringraziamenti del presidente del Vesna Vidoni. E a proposito della prossima festa di Sant'Andrea vi facciamo ora ascoltare l'intervista di Aldo Curtarelli a Siro Martin, presidente della Confartigianato Veneto orientale. Siro Martin, presidente Confartigianato Veneto orientale. Oggi qui a Portuguaro per la 36esima fiera di Sant'Andrea. Questa fiera è organizzata dal Comune di Portuguaro insieme alla Confartigianato e alle altre categorie. Ecco, ci può dire due parole di questa manifestazione che finalmente non è più in remoto ma in presenza. Sì, questo è un bel segnale. Averla nuovamente i nostri espositori e anche i visitatori tutti in presenza dopo la fiera dell'anno scorso che per non interrompere abbiamo voluto farla digitale, che comunque ha avuto il suo bel successo, vuol dire che ci stiamo piano piano incamminando fuori della pandemia. Però devo anche dire che i controlli saranno stringenti perché non siamo ancora liberi completamente e quindi chi viene qua lo faccia sempre rispettando le regole, sempre rispettando le norme per quanto riguarda il Covid e in modo tale che questa sia una festa e si concluda come tale, come una festa delle imprese, della città e che porteremo avanti e che sia il primo segnale della vera e propria ripartenza. Ecco, in questa manifestazione ci saranno moltissime aziende del settore agroalimentare in modo particolare. Lei è presidente degli artigiani del Veneto orientale. Le aziende come stanno andando in questo momento? Le aziende, devo dire, in questo momento, se parliamo senza entrare in settori specifici o nicchie particolari, è un momento, diciamo così, dove la ripresa c'è. Teniamo presente che non siamo ancora tornati ai livelli di pre-pandemia, però la crescita, ce lo stanno dicendo un po' tutti, c'è ed è sopra il 5%, però ricordandoci sempre dalla base da cui siamo partiti. È anche un momento un po' nuovo, c'è una grandissima discussione, un grandissimo dialogo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e anche noi qui nell'androne della Villa Comunale presentiamo una moda sostenibile con dei nostri artigiani che devono seguire questo filone perché è il filone in discussione, ma probabilmente è il filone vero del futuro che potrà anche portare ulteriori economie e ulteriori profitti alle nostre aziende, perché le nostre aziende per sopravvivere non devono solo lavorare, ma devono anche creare profitto e anche economia per il territorio. L'Assemblea Generale di Federal Berghi Caorle, che si è svolta come da noi ampiamente annunciato venerdì scorso, è stata un'occasione per gli albergatori della località per prepararsi alle prossime stagioni turistiche. In una sala azzurra gremita il presidente di Federal Berghi Caorle, Loris Brugnerotto, ha spronato la categoria a diventare parte attiva nel cambiamento dell'offerta turistica di Caorle per intercettare le esigenze di un turismo in continua evoluzione. Sul tema è intervenuto il professor Federico Belloni, docente di marketing turistico all'Università di Barcellona, che ha sottolineato come mare e spiaggia non siano più un prodotto turistico efficace in assenza di esperienze per gli ospiti. Per il nuovo turista ha affermato mare e spiaggia sono uno scenario all'interno del quale vivere una vacanza fatta anche di altre cose, di attività, di opportunità culturali, di gastronomia. Il turista vuole essere un cittadino temporaneo della località turistica. Per rispondere a queste sfide, secondo il presidente di Federal Berghi Veneto Massimiliano Schiavon, occorre superare il vecchio modello dell'impresa familiare ed evolvere verso un modello di gestione capace di rispondere alle nuove sfide del turismo, ricordando che sempre più in futuro il turista sarà alla ricerca di servizi di eccellenza e di qualità e quindi di strutture ricettive di pregio. Era presente all'Assemblea anche il neoletto sindaco di Caorle Marco Sarto che ha assicurato l'impegno dell'amministrazione comunale a dialogare con gli imprenditori anche su temi sensibili come quello relativo alla destinazione dell'imposta di soggiorno come pure per la riqualificazione di lungomare Trieste. E non è mancato un accenno al tema delle concessioni demaniali da parte del presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton. Dobbiamo avere la forza di trasformare in opportunità una criticità, è stata la sua esortazione. Per dare un quadro sintetico dell'economia della località turistica, basti dire che nel comune di Caorle sono attive ben 2.073 unità locali che mobilitano 5.817 addetti. Le imprese alberghiere sono 209 e rappresentano il 10,1% del tessuto imprenditoriale di Caorle. Nell'ambito della feliera ricettiva si contano 349 imprese della ristorazione che impiegano 1.557 addetti. La componente femminile conta 36 imprese del settore ricettivo, quindi una realtà veramente importante e significativa sotto il profilo dell'offerta turistica. Con una lettura scenica e una lezione maxistralis si è celebrata oggi a Pordenone la consegna del premio Donna Major che il Soroptimist Club di Pordenone assegna ogni due anni a una personalità femminile della città o della provincia che si sia particolarmente distinta in qualsivoglia campo dell'attività umana. Per il 2020 il premio rinviato per il Covid è stato assegnato alla scrittrice, giornalista, fotografa e operatrice culturale pordenonese Ludovica Cantarutti. Gli attori Viviana Piccolo e Fabiano Fantini sono stati protagonisti della lettura scenica La signora dai mocassini blu, tratta da un libro di Ludovica Cantarutti a cui è seguita l'Alexio Magistralis dal titolo Poesia e famiglia a cura della stessa autrice. E una mostra di assoluto interesse artistico si aprirà a Pordenone a partire dal 21 novembre presso la galleria Herribertoia, il sogno delle cose. Questo è il titolo della rassegna che espone quadri e sculture moderne appartenenti alle collezioni civiche di Pordenone accanto a opere d'arte e di grandi autori di fama internazionale. Saranno circa 130 le opere esposte, una mostra di portata eccezionale che incorona Pordenone come capitale dell'arte, queste le parole dell'assessore alla cultura Alberto Parigi. E passiamo allo sport, finisce in parità il derby tra Portogruaro e Caorle, un 1-1 che chiude un match equilibrato senza particolari colpi di scena. Al quinto del primo tempo Zanin del Portogruaro segna e mette una serie ipoteca al risultato che al quarto del secondo tempo della Bianca del Caorle riporta in parità. Qualche tentativo del Porto di rintuzzare il pareggio ma la partita alla fine si chiude senza particolari colpi di scena nonostante i litorani abbiano creduto fino alla fine alla vittoria. E Sandonà solo in vetta dopo il sonante 2-0 contro l'Istrana. Una compagine in forma, sia fisica che psicologica, ha dominato il match con autorevolezza ed efficacia. Nell'arco di pochi minuti, al 14esimo e al 17esimo, due reti rispettivamente di Scarpi e Scrocaro mettano la parola fine a un incontro che conferma ancora una volta il felice momento della squadra di Sandonà. E per la prima volta la Federazione Italiana di Atletica Leggera assegna al Friuli Venezia Giulia il massimo evento nazionale di corsa campestre per gli atleti over 35. L'ambita rassegna è stata riconosciuta al centro sportivo Visinai di Aviano che ospiterà l'edizione 2022 del campionato italiano Master Individuale di Società di Corsa Campestre. Il centro sportivo Pedemontano ha già ospitato diverse gare campestri e questo riconoscimento premia l'impegno e la qualità dell'organizzazione. Appuntamento dunque al prossimo 20 marzo per l'importante evento sportivo che non mancherà di registrare. Una grande partecipazione di atleti e di appassionati della corsa campestre. E dietro di me vedete l'articolo che abbiamo scelto per voi questa sera, un articolo che riguarda le conclusioni del vertice mondiale sul clima che si è tenuto a Glasgow in Scozia. Se dovessimo guardarlo con gli occhi di Greta Thunberg la conferenza di Glasgow è stata un totale fallimento senza nessun concreto passo in avanti verso azioni di reale contenimento delle fonti inquinanti, un bla 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 tra due blocchi, come scrive Monica Perosino sulle pagine del Messaggero Veneto, divisi tra paesi ricchi e paesi poveri, tra i grandi inquinatori e le vittime del loro inquinamento. Se invece la conferenza scozzese viene vista con gli occhi pragmatici della politica si possono intravedere dei passi in avanti, forse modesti, forse più contenuti rispetto alle attese della vigilia ma pur sempre dei passi in avanti. Certo si puntava all'eliminazione graduale del carbone, l'India si è messa di mezzo e l'eliminazione è stata sostituita con la riduzione graduale del combustibile fossile e tuttavia alcuni impegni importanti sono stati assunti, primo fra tutti quello di mantenere il riscaldamento globale a un grado e mezzo in più con il blocco della deforestazione. Anche in questo caso come per la pandemia dobbiamo puntare sui giovani e la loro tenacia così pressante a battersi per la difesa del clima è l'unica vera garanzia affinché l'impegno e l'attenzione dei potenti non passino in secondo piano ma restino al primo posto della loro agenda politica. È un tema quello del clima che attraverserà molte generazioni ma se vogliamo che il creato come lo chiama Papa Francesco non diventi il campo di battaglia tra paesi ricchi e poveri è ora che si devono porre le basi per un percorso virtuoso che ci porti gradualmente fuori dall'emergenza ambientale che stiamo vivendo. Il conto alla rovescia è già cominciato, auguriamoci che la ragione alla fine prevalga sugli interessi economici e che i governanti del mondo non si assumano la responsabilità di spalancare le porte alla catastrofe. E con questa ultima riflessione cari amici di Media24 io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro come sempre un in alto i cuori.